Presidente, se arrivate alla scelta di Federico, una persona che lei conosce da tempo e che stima? Sicuramente ci conoscevamo già da parecchi anni. Oggi credo di aver scelto una persona innanzitutto locale e poi una persona che potrebbe essere il giusto profilo per noi perché vogliamo una persona che sia molto molto vicino alla squadra giorno dopo giorno e quindi non dico dormire con loro ma molto molto vicino alla squadra. In effetti questo fa la differenza rispetto a Repetto, una persona vicina all'allenatore e vicina ai giocatori molto più presente. Credo che a Repetto nessuno può dire che il suo valore non sia quello di un grandissimo però ci sono due modi diversi di lavorare. Lui lavora in un modo sicuramente più professionale però noi qui viviamo la Serie C che è un ambiente molto piccolo, un ambiente molto particolare e quindi credo che Federico sia più idoneo per i nostri profili. Lei sta facendo grandi sforzi anche in questa sessione di mercato, sta rinforzando l'attacco anche per questo che lo striscione e le contestazioni che si sono viste a Ravenna non le sono piaciute. Non l'ho letto perché stavo parlando con il mio direttore però sicuramente non fa onore a chi poi riscrive ma certe cose casomai si dicono in faccia perché lì è un'offesa verso tutta la tifoseria e tutta la città di Teramo. Senza Presidente, ieri abbiamo ascoltato il Presidente del Francavilla Candeloro ci ha detto, noi cerchiamo persone che condividano il progetto, il nostro progetto. Cosa possiamo dire a tal proposito? Ma che possiamo dire? Che è un progetto bello, importante dove ci dobbiamo sedere e una volta che ci siamo seduti abbiamo visto che è un progetto che può trarre vantaggi per una filiera importante e noi ci stiamo a questo progetto quindi però oggi è prematuro anche parlarne perché ancora non è che ci siamo seduti per fare chissà cosa quindi ci dobbiamo ancora sedere abbiamo fatto qualche piccola chiacchiera che di chiacchiere se ne fanno tante e quindi dopo che sicuramente ci siamo seduti abbiamo visto che ci può essere una progettualità Abruzzo importante sicuramente saremo felici noi sarà felice lui, saranno felici altre persone che faranno parte di questo progetto nuovo in questo progetto dove dovrebbe esserci una filiera e nelle filiere poi ci può essere solo che una bellissima crescita grazie a tutti